Espoelette 2018, terzo forum internazionale delle donne al governo della politica e dell'economia, qui al Castello di San Giorgio il prossimo 21, 22 e 23 giugno. Il Castello di San Giorgio è ormai la casa di Espoelette e da qui partiamo per portare la nostra attività nel resto del territorio regionale e nazionale. Quest'anno il tema centrale sarà il rapporto fra la rappresentanza e l'innovazione, un rapporto che è al centro del dibattito sia a livello locale che nazionale che europeo e quindi giusto che le donne si interroghino se il loro modo di rappresentare gli interessi generali all'interno dei luoghi di decisione sia ancora moderno e corretto rispetto al contesto in cui ci muoviamo e che si sta evolvendo rapidamente o se sia il caso di modificarlo. Di questo parleremo nei tre giorni, più di 80 relatrici e relatori ne discuteranno in seminari, assemblee plenarie ed altri momenti di confronto e di scambio. Partiamo quindi da un concetto principale che è quello del cambiamento e infatti il sottotitolo dell'edizione 2018 di Espolette e se cambiare si può, tentare si deve. Noi vogliamo tentarci insieme a tutte le amiche e gli amici che in questi anni hanno lavorato con noi e che continuano a lavorare con noi e che vorranno essere presenti qui ad Espolette per discuterne insieme. Anche quest'anno continuano le collaborazioni di Espolette con Anci Piemonte e con il Comune di San Giorgio e se ne sono attivate di nuove che di volta in volta scoprirete nel corso dell'evento ma anche su il sito internet dell'associazione e dell'evento che vi invito a seguire con attenzione perché nei prossimi giorni verrà pubblicato il programma definitivo e anche verranno aperte le iscrizioni proprio attraverso il sito internet che è www.espolette.net. Ulteriori informazioni saranno inoltre quotidianamente postate sul canale facebook di Espolette. Quindi vi aspetto, vi aspettiamo al Castello di San Giorgio per la terza edizione di Espolette il 21, il 22 e il 23 giugno prossimi.